Adesso arrivi appunto fino a 5, tra fogli di là, 1, 2, 3, come gatti però il capitano ha... Come vedete sono ritornato nella mia vecchia postazione, la macchina dove facevo i video sfogo dell'Inter Ma oggi non sono qui per parlarvi di questo, sono qui per parlarvi di Orsato, di Schio Allora io ho finito la partita Inter-Milan, per carità non è un video per ricreare polemiche però voglio dire la mia Appena finita la partita Inter-Milan io sono andato di corsa a registrare il video perché ero nervosissimo Ok? Ero nervosissimo e non mi sono visto niente, i saluti dagli arbitri, non mi sono visto niente Mi è apparso oggi, due giorni dopo, un video dove Orsato dice a Icardi Se adesso tu non te ne vai entro 5 secondi io ti espello Praticamente Icardi è andato lì a chiedere spiegazioni molto tranquillamente da capitano Quindi lui può parlare con l'arbitro anche un po' animatamente Poi magari ti becchi l'ammunizione perché è il capitano, ok? È il capitano Andare a chiedere all'arbitro come mai avesse prolungato così tanto il tempo L'arbitro gli ha detto se non te ne vai entro 5 secondi io ti butto fuori Ha cominciato a contare 1, 2, 3, 4 Poi fortunatamente è arrivato Andanovic che l'ha portato via perché Icardi era nervosissimo Allora tu lo stavo di Schio, sei un emerito, idiota Primo perché Icardi può venire a parlare con te Cioè è il capitano, lui può venire a parlare con te Ha il dovere di venire a parlare con te Non che fai il fenomeno e dici se non te ne vai ti espello Seconda cosa, sei lo stesso imbecille di Juve Inter Che sei quello che ha fatto squalificare Icardi per due turni Che gli hai detto scrivo tutto, scrivo tutto Ma vattene a fanculo, vado, lo dico sinceramente Sei un coglione Un emerito coglione Come la maggior parte degli arbitri che fate tanti fenomeni O che arbitro che mi seguo non lo so Perché dovete fare i fenomeni? Cioè perché dovete fare vedere che voi siete la razza superiore Siete degli emeriti idioti Degli emeriti idioti Veramente Cioè sei un coglione Un coglione con la C maiuscola Ti metti a fare il fenomeno Eh se non te ne vai ti espello entro 5 secondi Cominci a contare Ma che comincia con te? Ma che sta malasino? Sei proprio un coglione Sei un coglione, guarda, guarda Sono venuto a fare sto video Perché mi salito un nervoso Quando ho visto quel video dei Cardi Che voi non avete idea Voi non avete idea Mamma mia Mamma mia, orsato di schio Ma non ce lo fate più venire Cioè contro la Juve ci ha squalificato Perisic Ci ha squalificato quell'altro I Cardi, due turni Adesso Fra un po' lo butta fuori Fortuna Andanovic Perché? Perché chiedeva spiegazioni? Sei un idiota Orsato di schio Sei un emerito idiota Grazie a tutti